Giorgio Gallo responsabile yachting per il Rina stamani un seminario importante quali sono le novità appunto su questo tema e soprattutto abbiamo visto una platea molto interessata di progettisti innanzitutto che appunto curiosi di carpire le ultime novità. Certo grazie siamo alla quinta edizione abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa proprio a sostegno dello sviluppo di questa nautica che sta dando diciamo dei risultati che sono di soddisfazione per tutti per tutto il comparto per l'intera nazione e stare vicino a progettisti vuol dire offrire loro tutte quelle che sono le novità in termini di nuove normative, normative che riguardano la loro vita professionale perché dovranno poi adeguare il prodotto a queste nuove normative e spiegarle, metterle nelle condizioni di come al meglio interpretarle e poi un panorama su tutti quelli che sono gli sviluppi internazionali di settori che sono molto vicini alla nautica e che trasferiscono alla nautica tutte le novità in termini di nuove combustibili alternativi. Questi combustibili alternativi da qui al 2050 diventeranno sempre più presenti a bordo e per far questo è necessario che se ne conoscano i punti di forza, i punti di debolezza e quindi tutte le varie opportunità che possono creare questi nuovi combustibili. Altro tema molto attuale si parla tanto di intelligenza artificiale ultimamente però abbiamo visto che diciamo nel seminario c'è anche un momento dedicato al cyber applicato appunto alla nautica. Sì, i giovani dobbiamo dare il giusto riconoscimento ai tempi che cambiano, i giovani oggi nascono digitali e di conseguenza dovranno avere una vita a bordo sempre più digitalizzata. Quindi la gestione del dato dal punto di vista elettronico è sempre più importante. L'apparato che gestisce il dato deve essere costruito e progettato in modo e in maniera che poi il dato sia sicuro. Quindi abbiamo due tipi di problematiche che stiamo affrontando. Come far sì che il software a bordo che gestisce il dato sia affidabile e dall'altra che quando trasferisco il dato verso terra tramite un satellite oppure tramite una connessione internet questa trasmissione deve essere sicura. Quindi vengono affrontati questi due aspetti. Un tema legato alla sicurezza del mio sistema di bordo e alla sicurezza della trasmissione dei dati che può mettere a rischio ovviamente tutto il servizio di bordo. Questo seminario sottolinea ancora di più l'importanza di Berlina appunto nel comparto della nautica, della blue economy della quale tanto si parla in Italia che il nostro paese sembra nostia lentamente ma magari riscoprando. Sì, sembra che l'Italia sia un po' indietro ma in realtà l'Italia poi andando a leggere bene i numeri non è indietro. Anche nel settore di nicchia che è lo yachting abbiamo costruttori importanti italiani che stanno lanciando delle sfide verso questa blue economy che per la quale loro non sarebbero neanche obbligati. Quindi lo fanno proprio come scelta, come desiderio di sfida per dimostrare che lo yachting comunque è un settore seppur di nicchia ma che ha una grande ambizione di essere al passo con i tempi.